Vite passate al setaccio, storie che fino a poco fa non interessavano a nessuno e che ora, dopo i fatti di Parigi, vengono ricostruite passo per passo. Ogni movimento, provenienza lecita o illecita, fino all'approdo al Cara di Bari. Gli elenchi degli ospiti del Cara di Bari diventano il punto da cui partire per incrociare date, nomi, storie di chi si è esposto con proclami religiosi ed ideologici. Vite studiate come mai nessuno si sarebbe mai immaginato storie passate al setaccio e nominativi che finiscono nel registro e nella banca dati del Ministero dell'Interno alla ricerca di eventuali segnalazioni di riservata vigilanza. L'investigatore della Digus di Bari, che da sabato scorso all'indomani degli attentati terroristici di Parigi, stanno intensificando i controlli. Misure di sicurezza intensificate come disposto in un comitato tenutosi in prefettura, su porto e aeroporto, ma è sul Cara che si concentra una vera e propria intelligence che passa dal setaccio agli oltre 1.100 ospiti. Il Cara è da tempo sotto osservazione degli inquirenti perché essendo un centro nel quale i migranti hanno piena libertà di movimento, facilmente si possono formare cellule di reclutamento per terroristi islamici. Buona parte degli ospiti è infatti di provenienza siriana. Già negli scorsi anni intercettazioni telefoniche avevano testimoniato come all'interno di strutture come quella barese, gli integralisti sfruttano la delicata posizione psicologica dei richiedenti asilo per sviluppare odi e rancori e portarli nei gruppi sovversivi. Tra l'altro i tempi di attesa dei richiedenti asilo per ottenere la documentazione sono particolarmente lunghi ed è per questo che il CSM ha deciso in queste ore di applicare anche a Bari un magistrato che si occupi solo dei procedimenti riguardanti i migranti che chiedono di accedere al regime di protezione internazionale. Sarebbero infatti più di uno i fascicoli aperti dalla procura antimafia sulla presenza di terroristi nel distretto barese e sui quali sono in corso indagini serrate. Spesso infatti si tratta di personaggi che vengono inizialmente indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per poi essere identificati come reclutatori di clandestini da addestrare e poi utilizzare in attività terroristiche. È il caso di Rafael Marcel Frederick Gendron e Bassam Ayahi, i due terroristi fermati al porto di Bari nel novembre 2008 perché nascondevano nel loro camper due giovani siriani e tre palestinesi. Solo con la perquisizione del mezzo emersa il loro vero intento, i due furono arrestati, condannati in primo grado a otto anni di reclusione e assolti da due corti d'appello dopo un passaggio in Cassazione. E fu proprio la sua prima corte nel novembre 2013 a evidenziare gli imputati mentre realizzavano il reato fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina costituivano una microcellula raccordata alla cellula madre con sede in Belgio.